Sono ragazzi che non sono più nel circuito scolastico, che hanno quindi assolto l'obbligo scolastico ma che magari sono impegnati in lavoretti sporadici o addirittura non sono impegnati in attività particolari. Vengono selezionati dai centri servizi territoriali, quindi dagli assistenti sociali che ce l'hanno in carico per diversi motivi, confrontandosi chiaramente con il servizio centrale che si occupa di infanzia, adolescenza e famiglie e poi vengono intercettati quindi e inseriti in questi percorsi di accompagnamento all'autonomia e chiaramente l'autonomia riguarda anche l'educazione al lavoro. Sostegno educativo e percorsi formativi teorico-pratici per gli adolescenti dai 16 ai 19 anni che per ragioni diverse non stanno compiendo un percorso formativo tradizionale, non dispongono di un bagaglio culturale o di una motivazione sufficiente per un inserimento lavorativo e sociale e vivono in contesti di maggiore svantaggio. Sono gli obiettivi del progetto Dote Comune che per un periodo dai 12 ai 16 mesi offre interventi alternativi rispetto a quelli tradizionali, con orientamento e esperienza sul campo, acquisizione e valorizzazione di competenze di base e relazionali. Questo è un ottimo progetto non solo valido ma che in questi giorni si stanno ad alta fragilità ma perché ha il valore aggiunto della relazione educativa. In primo momento orientamento poi saranno affiancati un tutor e c'è la possibilità nella fase finale ovviamente del progetto di un inserimento lavorativo. Ma questi ragazzi innanzitutto verranno ad apprendere quindi parteciperanno ai nostri lavori, alle nostre azioni che facciamo tutti i giorni. Noi già abbiamo moltissimi ragazzi che già lavorano in cooperativo, ognuno di loro è cresciuto sia da un mondo di vista professionale ma molte volte anche da un mondo di vista umano e questa è l'esperienza più bella che possiamo dare al nostro territorio. Tutti i ragazzi che hanno lavorato con noi, molti sono andati a lavorare in altre strutture, in altre aziende, anche nel pubblico. Servizi turistici, produzioni alimentari, ristorazione, servizi alla persona, impianti elettrici e servizi di parrucchiere ed acconciatore sono i settori individuati. I ragazzi avranno un contratto formativo che consentirà una concreta esperienza di lavoro nell'impresa, finalizzato all'inserimento lavorativo o al rientro nel percorso scolastico. Ci teniamo che sia un'azione di sistema perché credo profondamente che tutto quello che è progetto, progetti a pioggia, progetti sporadici, non rispondano realmente alle esigenze dei nostri ragazzi. Abbiamo diviso, un po' come abbiamo fatto anche con i centri antiviolenza, la città in cinque lotti associando a due a due le municipalità e quindi coprendo tutto il territorio cittadino e coinvolgendo chiaramente i centri servizi territoriali che sono i primi attori di questa programmazione, gli enti del terzo settore ma soprattutto enti dell'imprenditoria. Tutto questo per dare risposta anche ad una necessità di rendere autonome e autonome i ragazzi e le ragazze che per esempio per vari motivi si trovano in contesti multiproblematici o disagiati.